Camer, soluzioni per un autentico benessere. In tutto sono quattro, due specialisti e due specializzandi al quarto e quinto anno. Il primo ha iniziato due giorni fa e gli altri tre lo seguiranno entro poche settimane. Sono gli ortopedici in forza alla SST Gaetano Pini CTO, in distacco per i prossimi 24 mesi negli ospedali di Sondrio e di Sondalo, nell'ambito di un accordo quadro sottoscritto tra le due aziende, come già è stato fatto in precedenza con l'ospedale Niguarda. Dopo i concorsi andati deserti e stante l'impossibilità di reclutare liberi professionisti, un significativo e importante passo avanti dunque per sopperire alla carenza di medici per l'ortopedia e la traumatologia. Avevamo chiesto la copertura di quattro posti e quattro medici ci sono stati assegnati, sottolinea con soddisfazione il direttore generale Monica Fumagalli. Ringrazio la Regione Lombardia, il direttore generale del Pini Paola Lattuada e il professor Pietro Simone Randelli, direttore della Clinica Ortopedica, per l'attenzione che hanno dimostrato nei nostri confronti e per l'impegno profuso che hanno condotto a questo importante risultato. I medici andranno a integrare il nostro organico, mantenendo gli alti livelli di cura che le nostre ortopedie di Sondrio e di Sondalo hanno sempre garantito nonostante le carenze. Con il coordinamento dei rispettivi primari, i dottori Claudio Bonizzoni e Fabio Di Giovanni, sono certe che svolgeranno al meglio il loro lavoro all'interno dei reparti. Con questo accordo due gli obiettivi raggiunti, il rafforzamento dell'organico ovviamente e il consolidamento della collaborazione già in atto con il Gaetano Pini CTO, indiscutibile eccellenza per l'ortopedia e la traumatologia, che proprio nel 2024 festeggia i 150 anni di fondazione.